Ben ritrovati ho tutto eh ragazzi ho il subuteo che porta di solito bene speriamo anche oggi di Marco Van Basten con il 9 magari segna oggi anche il nostro 9 speriamo tanto e poi ho la maglietta del Milan che possa essere benaugurante anche per ricordarvi di scaricare gratuitamente l'app di numero 10 perché a breve assegniamo un'altra maglietta di Milanello dopo i biglietti del derby di oggi iscrivetevi attivate la campanella mi raccomando siamo oltre 84 mila tifosi rosso nero in questa community sul canale rosso nero più seguito ogni giorno con tanti obiettivi tanta voglia di migliorarsi e ovviamente oggi è alta tensione perché è la giornata del derby 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 per definizione derby è questo è questo è emozione adrenalina speranza preoccupazione un frullato un mix una centrifuga di emozioni contrastanti sperando che poi oggi intorno alle ore 20 dal frullato si possa passare allo sfumante lo champagne se preferite io racconterò la partita su QSWS vi aspetto per la mia telecronaca se vi va ma in questo video prima ovviamente dopo dedicheremo il tutto con un altro video sul derby no però intanto appunto nel dubbio il subuto me lo porto qui e speriamo davvero si possa fare una bella partita tosta vincente e convincente va bene anche vincente e non convincente ma basta che sia vincente sarebbe il top ora però in un video voglio affrontare un altro aspetto con una premessa perché non voglio mai e poi mai essere frainteso qui si vuole tutti bene al Milan si vuole tutti bene nel Milan però è chiaro che siamo 84.000 teste e non tutti la si pensa ugualmente è anche il bello del calcio avere pareri diversi discuterne ovviamente sempre in maniera pacifica in questo caso mi permetto di sentire su alcuni punti soprattutto un paio ma soprattutto uno delle scelte di mister Pioli che rispetto tantissimo a quale dico tantissimi grazie per lo scudetto lo scorso anno per aver dato credibilità e una filosofia di nuovo vincente al Milan però in questo caso ci sta che io posso non essere d'accordo non sono d'accordo a volte con mia moglie con i miei amici eccetera eccetera si discute anche il bello quindi non è una critica distruttiva è semplicemente un ragionamento voce alta visto che questo è un canale anche di opinione in cui voglio riflettere con voi e capire anche il vostro punto di vista su determinati aspetti con una premessa che è giusto ricordare ogni tanto che mister Pioli ovviamente ha il polso della situazione meglio di me di te, di tutti voi, di tutti noi insieme tutti questi 84.000 oltre tifosi rossoneri però è bello anche dire i propri punti di vista anche laddove non coincidono appunto con quello della nostra guida tecnica altre volte abbiamo discusso certe scelte poi lui ha avuto straragione sulla gara col Sassolo c'erano permessi di dire che forse c'era un po' troppo turnover e purtroppo sembra che quel tanto turnover abbia inciso però in questo caso la lista della Champions che senz'altro conoscerete con una premessa massimo 17 giocatori non cresciuti nei vivai in Italia quindi 17 stranieri 4 vivai formazione Italia 4 vivai o formazione Milan noi abbiamo 3 formazioni Milan che sono Gabbia sono Pobega e Calabria 3 formazioni Italia che sono Mirante e Florenzi e Tonali in tanti avete chiesto ma scusate teniamo Florenzi che è rotto tanto vale Florenzi tanto vale tenerlo perché lui non rientra nella lista dei 17 rientra nella lista dei 4 vivai o Italia e quindi se togli lui non è che lieve di spazio per un ladri di turno questa è una spiegazione che magari non è automatica per tutti un aspetto positivo e poi veniamo invece alle note un po' più dolenti e come mi ha scritto Enrico effettivamente il fatto che ci sia Krunic ci fa capire che non starà fuori tantissimo magari salta un paio di partite di Champions e poi c'è Krunic troppo spesso sottovalutato invece giocatore importante e di fatto di esperienza è quasi un senatore di questo Milan perché è uno del gruppo ormai storico di questo Milan sapete che gli escludi sono Tatarusano secondo me ci sta perché c'è Mirante non perché è il secondo ma è il terzo ma perché semplicemente è stato formato nei vivai italiani e quindi c'è non c'è Bakayoko ci mancherebbe altro scelerata secondo me la sua decisione alla fine di restare contro tutto e contro tutti pur sapendo di non giocare a 28 anni di essere fuori dalle liste non è un gran biglietto da visita anche per il futuro c'è fuori Ibra giusto così anche perché poi a gennaio si potrà cambiare qualcosa e Ibra fino a gennaio non ci sarà quindi non è assolutamente un atto di lesa maestà ma è una scelta più che condivisibile ecco mi trovo anche d'accordo a mali in cuore su Ciao perché comunque i due centrali tu hai Carluto Mori hai Kier che non andava escluso hai Gabbia che è dentro non perché viene ritenuto superiore a Ciao ma perché comunque è lista italiana quindi non toglie il posto a nessuno e uno lo devi lasciare fuori a Ciao che avrà tempo e magari modo di fare la Champions anche col Milan magari anche da gennaio in poi sono un po' meno d'accordo su due nomi e ci ho riflettuto un po' di più la notte porta consigli ho provato a trovare anche una chiave di lettura Adli Adli il pittore o polietta maledetto l'abbiamo subito adottato è un giocatore che vogliamo vedere in campo in nuovo c'è sempre sete di nuovo c'è sempre curiosità voglia di vedere quello che è arrivato nuovo che magari può sostituire quello che l'anno scorso ha fatto male il confronto chiaramente Adli-Diaz la scelta di Mr. Pioli è stata quella di andare su un giocatore che ha un background diverso che comunque è passato dal Real al Milan ha fatto Champions ha giocato Champions titolare e quindi l'idea è quella di scegliere la esperienza anche se Abraim fin qui ha deluso però uno dei teoremi di Carlo Poliani che da punto di vista tattico secondo me è il topo assoluto è quella che Abraim in Champions può avere meno difficoltà a incidere rispetto alle difese italiane ce lo auguriamo posso capire la scelta la chiave di lettura poi che qualcuno mi ha ipotizzato è che forse Mr. Pioli ha voluto privilegiare il vecchio gruppo ha voluto fin qui far disputare la Champions League a chi la Champions League se l'è sudata in campo vedi confronto Abraim Adli non lo so io spero che non sia questo perché la riconoscenza nel calcio fino a un certo punto ecco Mancini per riconoscenza alla fine non ci ha portato ai mondiali e così anche altri gruppi storici per questo credo che sia più una valutazione tecnica e di esperienza discutibile la cosa che però non mi va giù ragazzi è Vranx Vranx proprio non mi va giù intanto vabbè i nuovi c'è Dest che però profilo europeo comunque non c'è Florenzi ciao Adli e Vranx tutti fuori intanto passa quasi il messaggio per ambiente interno ed esterno per i giocatori stessi secondo me che sì sono giovani vedremo è un messaggio un po' pericoloso forse un po' controproducente ma soprattutto su Vranx che vi dico da diversi giorni che per me è il giocatore che può essere paradossalmente più importante perché va a sostituire un giocatore poi si può dire no non è sostituto eccetera eccetera però va a prendere quella casella lì di che sì che era un giocatore che l'anno scorso ha fatto bene in ultime partite un po' meno bene prima però era un giocatore che c'era sempre sostituire che sì non è semplice c'è bisogno anche di una spinta emotiva che secondo me non si dà togliendo il giocatore della lista Champions è proprio mentre per Adri mi dispiace ma vedo una motivazione in qualche modo discutibile non vedo motivazione su Vranx non vedo Povega ovviamente deve esserci perché è lista italiana non toglie il posto nessuno però Vranx secondo me ci doveva essere anche per questo per fargli capire noi puntiamo su di te anche se sei giovane crediamo tu possa essere il nostro potenziale titolare così si rischiano di trappare le ali sul nascere anche perché l'alternativa ragazzi è Ballot-Touret ripeto sulla sinistra abbiamo Teo Hernandez se non c'è Teo che è ovvero uno che si fa munire spesso se non c'è Teo c'è Dest che può fare quel ruolo e poi dice magari non c'è neanche Calabria deve essere molto sfortunato a quel punto puoi mettere Calullo a sinistra insomma per un ruolo ne avevamo tre che lo potevano fare al posto di Ballot-Touret i due centrali abbiamo i due titolari abbiamo poi abbiamo Krunic e Pobega secondo me serviva più il quinto lì che poi è un quinto importante perché diciamocelo noi puntiamo molto a livello di speranze su questo ragazzo che va a riempire la casella di Chessi ripeto poi il mister Pioli ha il il polso della situazione però è anche un ragazzo che è appena arrivato che secondo me fa fatica a misurare quindi anche se magari non ha avuto al momento risposte così esaltanti appena arrivato ci può stare ipotizziamo che magari Vranx in campionato fa cose straordinarie speriamo ecco non averlo in Champions a quel punto ci si mangia le mani io lo avrei portato proprio per un discorso anche motivazionale di messaggio a lui all'ambiente interno ed esterno ditemi che cosa ne pensate ragazzi ovviamente da adesso testa al debit ci pensiamo più tardi in un video iscrivetevi qui attivate la campanella lasciate un like forza Marco Van Basten o Giroud pensaci tu e scaricate gratuitamente dal link qui sotto l'app di numero 10 in palio la maglia del Milan ci vediamo dopo scatenatevi nei commenti con civiltà e rispetto perché sono pareri nient'altro che pareri ciao